Volevo, c'è sempre questo mio davanti che tu non lo tagli, cioè nel senso magari riesci a farlo un po' più... Quello che andrei a farti è proprio questi qua dietro che arrivino ad essere proprio quasi a livello dell'attaccatura tua, che si noti tanto proprio lo stacco cortolungo. Cosa che ti farò, ti andrò a creare una specie di doppio taglio che tu non noti, così riesco a tirarti via questa pesantezza che hai qua sotto e ti si delinea ancora meglio il taglio. E sono più dritti come quelli. Rimane più dritto e non crea questo bombettino come ce l'hai adesso. Ok, intanto la coda riesco a farla lo stesso. No, voglio, per quello sì, senza problemi. Ok? Perfetto. Sarà quello che dovevamo fare. Sì! Per renderti così perfetta, bella corta, leggera. Bellissimi. Bella, bella. Veramente. Quello che volevo. Quello che volevi, il bello corto e lungo davanti. Bellissimi. bella Steffi, grazie mille grazie a te Belly